Il teatro nuovo è uno degli ultimi teatri importanti lirici che furono realizzati in Emilia Romagna agli inizi del Novecento. È un teatro importante, è un teatro di grande prestigio, soprattutto è un teatro lirico. Essendo un teatro lirico ha dei volumi che sono notevoli, dimensionati per le grandi masse e quindi quando è arrivato il sisma tutta la parte della torre scenica ha subito uno shock tremendo e che solo grazie a un tempestivo intervento di sostegni ha impedito il crollo. L'edificio ha subito diverse trasformazioni da quando fu inaugurato, attorno al 1905 ad oggi e queste trasformazioni sono state trasformazioni che lo hanno anche modificato cambiandola addirittura in un cinema con interventi di alterazione dell'intero impianto. Il progetto è un progetto di restauro strutturale ma è anche un progetto di restauro della sua funzione originaria di teatro. Avendo il teatro modificato anche il proprio rapporto con il pubblico e anche la sua funzione, l'intervento non sarà semplicemente un intervento architettonico o comunque strutturale ma sarà anche un intervento legato alle nuove capacità che ha questo teatro, alle nuove tecnologie e quindi a un'offerta culturale nuova che la città di Mirandola darà ai propri cittadini ma a tutti coloro che verranno a Mirandola nel momento in cui sarà pronto questo teatro. Grazie 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 No